Con noi fino a qui tutto bene, più che un titolo un paradosso. Restate svegli amici di Radio Morfeo. Ti piace? Sì, la musica è buona. È tutto pronto, eh? Ci siamo. Hanno portato lo schermo grande, poi ho messo di rinforzo due casse che pompano di brutto. Grazie dei soldi papà, grazie. Stasera si fanno le cose in grande, i biglietti sono esauriti. E che ci fai vedere sullo schermo grande? Eh, ci sono le foto. Poi c'è anche un video di lui che suona la chitarra, sai, l'ha fatto la sua fidanzata. Me lo porta papà, me lo porta. È pronto? No. Praticamente? Praticamente non è pronto. Quello è pronto quando io vedo tutto qui. Lo schermo grande, che c'è pure costato alla grande, eh? C'è col suo filmato e... E lui che suona la chitarrina, eh? Allora è pronto. Me lo doveva portare. Se poi le telefono, ma è pronto. Io non dormo mai. Infatti mi chiamano senza sonno. Senza sonno? E perché non dormo mai? Perché bisogna sempre controllare tutto. Brava. Bisogna controllare tutto, sì. Bravo. Devi imparare anche tu, però poco, no? Controllare, sapere, è matematica, è avere i coglioni, eh? Questa del cd, no? Chi è? Dove abita? Che fa? Chi se la scopa? Io no, papà. Che ha fatto ieri? Cosa sta pensando adesso? Cosa farà domani? E chi sai? Dio! Di più. Dio lo vedi? Eh? E io sono qua. E controllo. E scopro. Questo l'hai fatto tu? No, io no. No. A volte mi parte la mano, no? E inizio a dis... E va. Io non volevo farlo. Cioè, papà, io figurati se voglio... Cosa fai, papà? Cosa stai facendo, papà? Cos'è quella, papà? Papà!